Il Quadraro è stato onorato dalla visita del Duce, che ha voluto iniziare personalmente i lavori della nuova e grandiosa sede dell'Istituto Nazionale Luce. L'Istituto Luce ha un ruolo primario nella costruzione del mito mussoliniano. È la spina dorsale della macchina della propaganda. Nato nel 1924, con il preciso compito di produrre l'immagine ufficiale fotografica e cinematografica del regime, archivierà centinaia di migliaia di foto e migliaia di pellicole fra cinegiornali e documentari. Camicie nere! In questo momento i nostri occhi si sgrutano. C'è forse qualche cosa di cambiato fra noi? No! E Mussolini si offre come un abile attore. Mostra il suo corpo. Ricorre a tutto quel repertorio di espressioni, di anteggiamenti, di intonazioni che la gente si aspetta da lui, che ama, che ammira. Questi notiziari di propaganda vengono proiettati nelle sale cinematografiche, tra un film e l'altro e vengono seguiti con fervore. Salute al Turchia! Anche il cinema è tenuto d'occhio. Intanto è vietato rappresentare il Duce in opere di finzione. Che nessun attore osi interpretare colui che per gli italiani deve essere unico e irripetibile. Il capo del governo ha inaugurato la città del cinema. Ma perfino semplici film di evasione possono nascondere messaggi non in linea con il regime. Per evitarlo nasce l'ente cinema e la direzione generale di cinematografia, che in armonia con il Ministero della Cultura Popolare passano tutte le pellicole al vaglio della censura. Ecco l'aioregista. Ma sì, è Camerini, con in mano l'inseparabile copione. E di fronte a lui Brizzi, l'operatore, che sta dando disposizioni per le luci. Clamorosa, durante l'anteprima di un film di Mario Camerini, una violenta reazione del Duce. Mentre guarda il cappello a tre punte, rimane così indignato per una scena contro le tasse in cui il governo viene addirittura definito affamatore, che salta sulla sedia urlando come una furia. Ma va la pena di lavorare come una bestia per essere ricompensato così dagli italiani? Alla scuola di Scherma, dove il Duce ha voluto cimentarsi con due fra i più provetti sciabolatori del terzo corso. I miti non hanno età. Le istruzioni governative sono precise. Come è noto, il Duce non gradisce in alcun modo che la stampa si occupi del suo compleanno. Non farne quindi alcun cenno. Neppure nelle corrispondenze dall'estero. E ogni anno, all'approssimarsi del 29 luglio, data della nascita del Duce, i giornali ricevono questa raccomandazione. Perché Mussolini deve rimanere eternamente giovane. L'intenso lavoro del Duce è quotidianamente preceduto da una rapida attività sportiva, che ritempra le sue fresche energie e il suo vigore fisico. Ho fatto del mio organismo un motore costantemente sorvegliato e controllato, che marcia con assoluta regolarità, afferma con orgoglio. Dedico dai 30 ai 45 minuti del giorno agli esercizi fisici e li pratico quasi tutti. Preferisco il nuoto d'estate, gli sci d'inverno e ogni giorno l'equitazione. Anche la marcia è nelle mie simpatie. Per quanto l'epoca dei miei duelli sia trascorsa, la scherma è sempre un ottimo esercizio per tenere alacre il corpo. Pretende che gli italiani lo imitino. Nel gennaio 1937 invia al direttore del Popolo d'Italia una foto da sciatore a torso nudo sul Terminillo, avvertendolo che va pubblicata in terza pagina. Serve di esempio ai sedentari. È il commento. Camerata, un finestro, accendi il motore! E perché ancora si esalti la forza ideale del suo corpo, la propaganda raccomanda. Notare come il duce non fosse affatto stanco dopo quattro ore di trebbiatura. E fattosi consegnare il piccone ha tracciato il solco nuovo della via imperiale. La costruzione del mito funziona. La gente comune scrive a Mussolini circa 40.000 lettere al mese. Si ha un dolore da confidare. Il desco è vuoto. Quando ci si guarda attorno e non si sa più a chi rivolgersi, ci si ricorda che c'è lui, commenta il Corriere della Sera. E il duce, il condottiero, l'uomo forte, diventa, per il suo popolo, un padre. La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui. Dio ci dà il pane. Egli ce lo lavora e ce lo difende. Compendia il sentimento di tutto un popolo. E al padre della nazione giungono messaggi di ogni tipo. A volte, come in questo, rasenta il sacrilegio. Scrive una piccola italiana nel giorno della sua prima comunione. avrei voluto in quel momento solenne in cui ho ricevuto Gesù che apporgerlo fossero le vostre benedette mani e mi sono figurata, infatti, di riceverlo da voi. Mentre un'anziana signora di Verona, ricevuta a Palazzo Venezia, nel consegnargli un album di pelle nera nel quale ha trascritto le sue conversazioni con gli spiriti di Mazzini, Garibaldi, Cavour e Napoleone, gli riferisce che tutti, ma proprio tutti, i grandi dell'oltretomba si sono dimostrati suoi ferventissimi ammiratori. Il duce, mutato in simulacro vivente, pur vivo, in figura già quasi eterna. Anche la luce del suo studio, che rimane accesa fino a notte fonda, acquista un significato quasi sacrale. Perché chi passa per Piazza Venezia deve provare gratitudine reverenziale per il padre della patria che sempre lavora. La fama di grande amatore concorre alla costruzione del mito del duce e un mito, per rimanere tale, non deve porre limiti alla misura. Dunque, amanti, scappatelle, figli illegittimi, scandali repressi. Il numero complessivo delle donne che il duce ha posseduto dicono sia leggendari. In genere, i suoi sono svaghi sessuali in mordi e fuggi. Hanno luogo su un sedile di marmo, coperto da un cuscino trapuntato, nel vano di uno dei finestroni della sala del Mappamondo, a Palazzo Venezia. A Claretta Petacci, che qui vediamo in occasione del matrimonio della sorella Miriam, ed entrata in ruolo come amante nel 1936, confida. Sai bene che la prima volta non si può stare bene con una donna. Ricordo Billy, una stupidina appena sposata che non sapeva come fare. Stava sul letto, ferma. Allora io la spinsi un poco per farle capire ciò che si doveva. La spinsi indietro sul letto e lei, non so come, andò a sbattere la testa contro uno spigolo e uscì il sangue. Quanto a Claretta, gli incontri con il mitico amante avvengono in un'apposita camera dell'ex appartamento privato del Cardinale Cibo, al primo piano di Palazzo Venezia, sul lato di Via del Plebiscito. Nell'attesa, lei scrive un diario in cui rivela Nel fare l'amore è emozionato che pare un ragazzo, grida come una belva ferita. Della sua virilità, il duce non fa certo mistero, anzi. Tutte le donne, prima di sposarle, bisogna provarle, diceva ridendo. E la sua aura mitologica risulta molto attraente, a volte, perfino troppo. Ex maestro, Mussolini ha un debole per le maestrine dalla penna rossa, eppure ha il buon senso di rifiutare le avance di un insegnante che alla vigilia delle nozze con un falegname offre al dux un autentico ius prime noctis. Pur lusingato, Mussolini la fa rimproverare da un maresciallo dei carabinieri. Alle amanti, Mussolini non rinuncia, ma l'immagine pubblica deve essere quella del padre di famiglia. Eccolo, attento e premuroso, nella cura della casa, degli affetti, della quiete domestica. E' un uomo fedifrago. In famiglia, però, come pure nel resto del paese, si fa di tutto per ignorarlo. Qui, dinanzi al fotografo, il duce è solo il padre, lo zio, il nonno, il genitore, che opera e provvede, nella buona e nella cattiva sorte. Eccolo felice, in occasione delle nozze della figlia Edda, con il conte Ciano. Altissimi applausi salutano l'arrivo del corteo muschiale. La sposa entra in chiesa al braccio del vincere. Eccolo ancora beato, al braccio di tutte le spose, dei figli e dei nipoti, che ha accompagnato all'altare. Ma eccolo ancora, nei momenti terribili. per la perdita del fratello Arnaldo. Eccolo con Rachele, al funerale del figlio Bruno, precipitato a Pisa nell'estate del 1941. È il dux padre. Nulla gli è risparmiato. Tutto sopporta. Una sede mitica. Un corpo da semidio quasi immortale. Un amatore infaticabile. Un pater famiglie e premuroso. Un campione della modernità. Mussolini vuole mostrarsi come un dominatore. Domina le folle, le donne, la famiglia e anche le scienze moderne. Amante della velocità e delle sfide, una volta in treno da Napoli a Roma, chiede di andare il più veloce possibile. Il macchinista, con grande soddisfazione del duce, spinge al massimo la locomotiva fino a raggiungere velocità inaudite per quel tempo. Per paura di deragliare, il fido cameriere Navarra, tutto preoccupato, gli si avvicina, pregandolo di far rallentare il treno. Ma che fascista siete, Navarra, scatta lui eccitato. Avreste paura della velocità? Rapito dal piacere della corsa, giunto a Roma, il duce si complimenta personalmente col macchinista. Non sa che il poveretto rischierà di essere licenziato per aver messo in serio pericolo la vita del duce. Così come non esiste uno sport che non pratichi, non esiste neppure una macchina che lui non guidi. La cloche degli aerei, poi, lo inebria. Possiede il brevetto per piccoli velivoli già dal 1919. A metà degli anni 30 decide di passare alla guida dei trimotori. Fa pratica con il colonnello Attilio Biseo, esperto pilota delle crociere atlantiche. Tutto bene fino al giorno del brevetto. Ma per ottenerlo deve decollare da solo. I responsabili sono presi dal panico. Un errore potrebbe infatti costargli la vita. Tantomeno si può omigliare il duce facendolo assistere da un pilota. Il comandante generale Giuseppe Valle allora ha un'idea. Durante la notte fa nascondere un pilota esperto sotto un telo nella carlinga. Al mattino il duce si alza in volo esibendosi con spettacolari manovre. Conquista così il brevetto tra scrosci di applausi rimanendo ignaro della verità. E la propaganda non perde l'occasione per promuovere questa immagine di uomo coraggioso e sprezzante del pericolo. Come si vede in questo cinegiornale il cui audio non è originale ma restaurato nel dopoguerra. Il duce ha voluto invitare alcuni giornalisti stranieri a compiere un volo su un trimotore da lui personalmente pilotato. La prima divisione motorizzata passata in rassegna dal duce presenti il capo di stato maggiore generale il generale von Rintelen capo della missione germanica a Roma il capo di stato maggiore della regia aeronautica il segretario del partito. Dal luglio 1933 Mussolini ha assunto i poteri di ministro della guerra ad interim e di tutti i dicasteri militari. quindi nel 1938 il grado di primo maresciallo dell'impero. È il titolo più alto lo condivide con il re e ci tiene. Fare presente che alla cerimonia di stamane all'altare della patria il duce vestiva la divisa di primo maresciallo dell'impero e non dice sì non di comandante della milizia. L'immagine del duce è ancora cambiata. Ha abbandonato Filuca e Doppiopetto retaggio dell'Italia liberale per vestire la stoffa sacra delle battaglie la divisa militare del condottiere. Una nuova identità per adeguarsi alla straordinaria organizzazione militare che tanto ammira nella Germania di Hitler. Eccolo dunque pronto all'offensiva propagandistica. Accanto al re mentre assiste alle manovre dell'esercito al timone della flotta della marina insieme ai più alti ammiragli in divisa da pilota fra gli aviatori. Mussolini si cala totalmente nella parte. E' il momento solenne dell'incontro fra il Führer della Nuova Germania e il duce fondatore dell'impero. E in occasione della visita del Führer in Italia dal 3 al 9 maggio 1938 la macchina della propaganda marcia a tutto vapore. Si avvia per il viale Aventino verso Piazza Venezia. Per non essere inferiori alle colossali coreografie germaniche tutte le caserme sono precettate. I soldati si esercitano a marciare al passo romano. I campi paramilitari di Montesacro e dei Parioli si preparano per le sfilate della gioventù del Littorio. Mentre la folla è coordinata dalle sedi del partito agli ordini del segretario Achille Starace e della speciale commissione presieduta da Ciano che ne scrive la sceneggiatura prevedendo persino la dislocazione dei fotografi e degli operatori cinematografici lungo il percorso. Grandi scenografie masse oceaniche solennità imperiali che danno dell'Italia l'immagine di una facoltosa potenza di carta pesta. Il cordeo solenne attraversa l'urbe tra squini di campare rulli di tamburi e clamori di moltitudine. La facciata umbertina della stazione Termini viene rimodernata con travature di ferro che sostengono finti scenari come a Cinecittà mentre alle vie della capitale è praticato un incisivo lifting. fondali dipinti vengono posti lungo i binari nei pressi della stazione Tiburtina per evitare al Führer il crudo panorama dei tuguri e delle povere baracche degli emarginati della capitale. Nelle memorie dell'archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli che fa da Cicerone a Hitler nella sua visita in Italia si ricorda una pasquinata. Roma di Travertino vestita di cartone saluta l'imbianchino che arriva da padrone. Ma creato il mito del Dux è necessario raccontarne la genesi la storia. Allora in occasione del decennale della marcia su Roma si allestisce una grande mostra della rivoluzione fascista. La rassegna inaugurata nel 1932 rimane aperta fino al 1934 accogliendo la bellezza di 3 milioni di visitatori. La mostra è quasi un rito di iniziazione. Le sale si susseguono secondo un percorso obbligato che porta per mano il visitatore attraverso una serie di tappe lungo la storia del fascismo per concludersi poi nel luogo considerato più sacro l'esatta ricostruzione del famoso covo del Duce. Ed infine la piccola stanza di lavoro del Duce che bastò al suo affanno nella tormentata vigilia. L'ufficio del demiurgo presso la redazione del Popolo d'Italia in via Paolo da Cannobbio a Milano il punto zero il punto d'origine del fascismo questa messa in scena è frutto dell'ingegno del pittore Mario Sironi e su manifesti e riviste vivono infinite le iperboli sulla figura del capo grande nocchiero dinamo umana capo spirituale dell'Europa principe della stirpe dominatore della filosofia aeronauta del pensiero colonna del mondo messo di Dio grande mago genio universale incarnazione del veltro dantesco espressioni così esponenzialmente ardite che la più tradizionale uomo della provvidenza diventa quasi modesta una gigantesca M mussoliniana sovrasta come un arco trionfale l'ingresso degli stabilimenti Fiat dell'aeronautica d'Italia dove il duce osseguiato al suo arrivo dal senatore Agnelli inizia subito in macchina la visita alle officine in piena attività salutato dalle entusiastiche manifestazioni dei tecnici e delle maestranze questo accade in Italia ma all'estero come la pensano? quando il 7 aprile 1925 una squilibrate inglese Violet Gibson spara a Mussolini facendogli solo un graffio lui la rimanda senza rancore nel Regno Unito in questa occasione il Times di Londra pubblica un lungo articolo dall'eloquente titolo Mussolini trionfante nel quale loda l'abilissima propaganda fascista che ha saputo trasformare il gesto folle della cittadina britannica in un gesto di generosa magnanimità in un clamoroso successo di immagine Winston Churchill allora cancelliere dello scacchiere del governo conservatore incontra Mussolini a metà gennaio del 1927 traendone un'impressione lusinghiera se fossi italiano starei con il duce afferma anche negli Stati Uniti c'è chi rimane ammaliato dalla figura del leader italiano nel 1933 la Columbia Pictures per volontà del produttore ebreo di origine tedesca Henry Kohn realizza il documentario Mussolini Speaks scritto dal famoso giornalista Lowell Thomas il film distribuito nelle sale raggiunge l'incasso record di un milione di dollari che oggi corrispondono a circa 10 milioni di euro si esalta il duce definito come un nuovo Cesare e un nuovo Napoleone all'inizio della pellicola è scritto questo film è dedicato a un uomo del popolo le cui azioni per la sua gente saranno sempre di ispirazione per l'umanità intera il presidente degli stati uniti Roosevelt nei primi anni 30 ha ancora fiducia nell'Italia tanto da affermare Mussolini deve passare alla storia come il costruttore di una migliore forma di convivenza fra i popoli Pierre Laval il primo ministro francese non nasconde la sua stima per il duce al termine della sua visita in Italia del gennaio 1935 afferma entusiasta non voglio lasciare Roma senza esprimere alla stampa italiana la mia ammirazione per il signor Mussolini tra noi è nata una simpatia che io saprò mettere al servizio dell'amicizia franco-italiana e in termini lusinghieri si esprime anche tutta la stampa moderata parigina che esalta il suo anticomunismo e il suo intervento in Spagna e quando la minaccia nazista diventa seriamente preoccupante Neville Chamberlain premier britannico e il ministro degli esteri Lord Halifax non esitano a riporre nelle mani di Mussolini i destini della pace d'Europa coinvolgendolo prima nel patto di Monaco poi nel disperato tentativo di convincere Hitler a evitare la guerra Mussolini di fronte a Francia e Inghilterra promette di far leva sull'amicizia che lo lega a Hitler per arginare le mire espansionistiche della Germania ma Hitler è un amico difficile un amico che mette paura nel maggio del 1939 Mussolini firma con Hitler un patto di alleanza militare a doppio nodo il patto d'acciaio se scoppia la guerra l'Italia deve intervenire al fianco della Germania e la guerra non è solo un'ipotesi il Führer ha già deciso di attaccare la Polonia alla propaganda il compito di esaltare l'esercito italiano si organizzano parate e sfilate sono sfilati oltre 60.000 uomini 400 pezzi di artiglieria 2260 mitragliatrici 6900 quadrupedi ma in realtà la situazione è quasi disperata gli armamenti sono pochi e obsoleti solo di quadrupedi ce n'è in abbondanza decisiva sarebbe una flotta aerea all'avanguardia invece la regia aeronautica che la propaganda si affretta a magnificare è costituita ancora da biplane il caccia di punta è il vecchio e glorioso Fiat CR42 che ha addirittura le ali di tira la propaganda parla di un esercito invincibile ma Mussolini sa bene che la realtà è un'altra quell'estate del 39 Mussolini impegna febbrilmente tutta la sua autorevolezza per ricondurre l'alleato nazista a più miti consigli trovare un accordo con la Polonia la Francia e l'Inghilterra ma in vano il primo settembre 1939 le truppe corazzate della Wehrmacht marciano verso Varsavia consapevole della sua debolezza Mussolini opta per la cosiddetta non belligeranza un puro artificio verbale che la propaganda cerca tempestiva di vendersi come lungimirante strategia politica e militare invece è solo una situazione di stallo attendista né pace né guerra che dire alla gente quali direttive dare alla stampa alla propaganda servono nuove idee giunge il ministro della cultura popolare eccellenza Pavolini Mussolini si rivolge ad Alessandro Pavolini una delle migliori giovanimenti del regime scrittore e giornalista amico di Galeazzo Ciano che va a dirigere il ministero della cultura popolare Pavolini capisce che è tutto da reinventare e soprattutto da improvvisare le veline ora diventano dei capolavori di diplomazia ai giornali si raccomanda simpatia per la Germania ma anche comprensione per Francia e Inghilterra i nostri atteggiamenti risoluti non debbono mai essere tutti di un pezzo evitiamo gli atteggiamenti rigidi e allarmistici si è iniziata la visita del duce ai grandi quotidiani di Torino fascistissima la sede della stampa si è addobbata e così per nove mesi la propaganda fascista pattina in un limbo in colore naviga a vista si vive alla giornata la popolazione chiama a gran voce il fondatore dell'impero una immensa acclamazione lo saluta quando egli appare al sommo del podio ma al di là dei riti dei miti delle cerimonie e delle scenografie di cartapesta la storia non si può ingannare la verità alla fine viene a galla i nostri apparecchi da bombardamento picchiano sulle formidabili difese che i francesi hanno apprezzato la capitolazione della Francia sotto l'attacco della Wehrmacht e la convinzione che Hitler vincerà facilmente la sua guerra lampo spingono Mussolini a fare il passo decisivo eccoci dunque al punto dal quale abbiamo cominciato il nostro racconto al 10 giugno 1940 alla dichiarazione di guerra a Parigi e a Londra allo schieramento al fianco di Berlino sono passati i 70 anni da allora ma il tempo non può certo far dimenticare quello che a memoria d'uomo è stato il momento più cupo più infelice più tragico della storia d'Italia il duce il pater famiglie il padre della nazione il corpo motore porta gli italiani alla guerra il popolo plagiato dalla sua forza persuasiva lo segue nel baratro con l'illusione che tutto durerà poche settimane la propaganda ha fatto un così buon lavoro che la gente abbocca in pieno illudendosi di una facile vittoria in pochi giorni le artiglierie francesi bombardano 20 miglia con la vana speranza di disorganizzare le nostre retrovie certo entrando in campo a cose fatte Mussolini rischia di passare per opportunista alla propaganda il compito di rimediare la sera stessa del 10 giugno Pavolini convoca i direttori dei giornali per studiare una strategia di comunicazione il duce oltrepassa il confine dieci giorni dopo la stampa fascista parlerà con enfasi dell'offensiva delle Alpi eroicamente sferrata dall'esercito italiano contro la Francia il 24 giugno la Francia chiede l'armistizio e la propaganda ne approfitta per far credere sul serio che il duce abbia servito la vittoria sul piatto d'argento i plenipotenziari francesi giungono all'aeroporto dell'ittorio la delegazione si dirige alla villa incisa all'olgiata località designata per l'incontro con i plenipotenziari italiani gli italiani si illudono che abbia ragione si dimentica che l'Inghilterra ancora non si è arresa in un grande stabilimento che produce senza sosta ingenti quantitativi di almetti in acciaio per le nostre forze arbate l'Italia è in guerra con l'Inghilterra ma stampa radio cinegiornali sembrano fare finta di nulla nelle città il cibo già scarseggia ma l'importante è che non se ne parli la propaganda teme che psicologicamente il popolo non recca non toccare l'argomento delle cosiddette code davanti ai negozi precisano le veline si fa categorico divieto ai giornali di pubblicare comunicati o notizie da qualsiasi fonte provengano riguardanti il razionamento alimentare piuttosto vengano messi in evidenza alcuni vantaggi il comunicato sulla scarsa attività delittuosa in dipendenza dello stato di guerra va pubblicato con rilievo le donne operaie e mobilitate danno la loro preziosa e instancabile opera nei vari reparti dove si costruiscono i velipoli la vita quotidiana cambia per tutti intanto bisogna far accettare che le donne sostituiscano in molte mansioni gli uomini partiti per il fronte la donna italiana sa essere degna delle sue grandi tradizioni di patriottismo di attività e di assoluta dedizione al dovere nel settembre 1940 l'illusoria avanzata del generale Graziani in Egitto il maltempo proibisce le operazioni ma questi diavoli partono lo stesso la propaganda glorifica eroiche gesta ed è questo quello che conta e siamo al pantano in cui affonda il duce attaccando la Grecia poi la prima sconfitta è in Africa settentrionale per il contrattacco dell'Inghilterra che dall'Egitto invade la Libia quindi la perdita dell'impero in Africa orientale in pochi mesi è la fine di quella sorta di ammaliamento che il duce aveva esercitato su tanti italiani la macchina di ripresa accoglie qualche momento della dura giornata di lavoro e di guerra sul fronte greco la propaganda copre artificiosamente le sconfitte con l'ottimismo dei cinegiornali ma la realtà al fronte è ben diversa in patria le famiglie iniziano a piangere i loro morti la situazione sui monti della Grecia stagna credendo che la sua sola presenza possa avere quasi un potere taumaturgico Mussolini decide di recarvisi personalmente e vi perde ancora più prestigio alcune delle foto che qui vedete non furono mai pubblicate disperati gli assalti e inutili i morti l'offensiva fallisce a sera il duce se ne torna a valle a capochino si avvicina a un soldato in un'ambulanza ferito gravemente con lo stomaco squarciato nel vederselo così vicino con lo sguardo velato il moribondo lo rimprovera con un fil di voce a sé bravo bravo riesce appena a sussurrare Mussolini si ritrae pensoso e nella calca si allontana muto l'attacco dall'aria è incominciato e ormai si protrarà senza tregua per quasi tre giorni intanto Mars e moto siluranti navigano a tutta velocità le sconfitte delle forze armate italiane si susseguono sia in mare che in terra si è perso anche l'impero tornato nelle mani del Negus i pochi successi che la propaganda esalta tra il 1941 e il 1942 sono quasi solo merito della Wehrmacht il generale Rommel nella zona della battaglia ormai neanche i tedeschi hanno più fiducia in Mussolini tanto che quando il duce nell'estate del 1942 raggiunge l'Africa settentrionale Rommel il famoso generale di Hitler la volpe del deserto evita perfino di riceverlo alla presenza del duce nelle scuole centrali dei servizi anti incendi si sono svolte brillanti esercitazioni di protezioni antiaeree alle quali hanno partecipato reparti dei vigi del fuoco dell'Umpa e della... in Italia la propaganda lavora perché fotografi e giornalisti non accostino l'immagine di Mussolini alle tragedie al sangue alla sconfitta si preferisce che il luce lo riprenda in rassegna delle truppe schierate in partenza per il fronte o al centro di spettacolari esercitazioni di protezione antiaerea tema delle esercitazioni tre successive ondate di aerei nemici provenienti dal mare sganceranno bombe di rompenti incendiarie ed ad aggressivi chimici anche sugli abitati a nord ovest dell'ipodromo delle Capanelle tuttavia il duce non può esimersi dal partecipare alle cerimonie in onore dei caduti insieme alle vedove ai feriti ai mutilati e già la sua aura da semidio comincia a incrinarsi cosa potrà mai dire ai tanti che sul campo di battaglia hanno lasciato braccia o gambe a una madre che ha perso un figlio a un uomo che ha perso la vista ogni giorno la radio e i quotidiani diramano ovunque le notizie di guerra mentre sugli schermi si succedono i documentari delle più importanti azioni combattute sui vari fronti nessuno può dire di no anche i giornalisti inviati al fronte obbediscono agli ordini fin dall'inizio della guerra Pavolini aveva ordinato che i 71 quotidiani del regno e l'agenzia Stefani fossero immediatamente sottoposti per decreto alla mobilitazione civile Pavolini sa quanto la loro complicità sia necessaria e non dimentica di lodarli ed esaltarli e figuriamoci se possono ribellarsi i cineoperatori dell'istituto Lucio anch'essi sono in prima linea eccoli pronti a morire sono gli eroi della verità in una base navale la consegna delle ricompense al valore ai giornalisti ed operatori cinematografici che si distinsero nell'azione navale di Punta Stilo il giornalista Arnaldo Cappellini gli operatori cinematografici dell'istituto nazionale luce decorati al valore Lamberto Urbani e Angelo Iannarelli ma la verità non possono certo raccontarla l'ordine della propaganda è quello di non far vedere il sangue i morti i feriti il fango la neve i soldati laceri che vi affondano viene proibito di riprendere i combattimenti sul campo si chiede invece di ricostruirli dopo che sono avvenuti come se la guerra fosse un set cinematografico i soldati inquadrati dalle cineprese devono essere sbarbati e con le uniformi in ordine e Piero sta bene è partito ieri sera per Napoli per imbarcarsi bisognava vedere quanti erano partano stanotte alle tre vanno a Bengali nessun orecchio estraneo sembra prestarle attenzione sembra ma non è ora l'Italia ha molti nemici nemici da odiare perché l'odio dia la forza per combattere ancora forse per la donna imprudente ha ucciso con gli altri anche un fratello e i nemici possono nascondersi ovunque ovunque possono celarsi delle spie Pavolini ordina dei veri e propri spot nasce lo slogan tacete il nemico vi ascolta la propaganda sa che l'odio contro il nemico va coltivato per puro caso un nostro operatore è riuscito a riprendere il mitragliamento a bassa quota da parte di un Blenheim inglese contro un ospedale da campo in Africa settentrionale malgrado i visibilissimi segni della croce rossa signora la Francia presto sconfitta l'invettiva è tutta contro l'impero britannico una nave ospedale colpita e danneggiata dagli aviatori nemici l'Inghilterra è definita egoista plutocratica rapinatrice la si denigra senza trascurare nessun'arma neppure quella dell'ironia e dello Sperlef questo impressionante documento cinematografico è stato ripreso da operatori americani e neutrali dopo una grande incursione aerea germanica si giunge ad auspicare la morte di tutti i londinesi sotto i bombardamenti nazisti una velina dice la notizia da New York sulla deficienza dei ricoveri londinesi va pubblicata in prima pagina con rilievo la propaganda parla di Londra per non parlare di Milano di Torino delle città industriali del nord che iniziano a subire pesantemente i bombardamenti alleati i nostri soldati già combattono sul fronte russo continuano ad affidare ma il peggio deve ancora arrivare Mussolini si associa a un'altra funesta avventura di Hitler si tratta dell'operazione barbarossa con la quale nel giugno del 41 la Germania attacca l'unione sovietica Pavolini ne approfitta per organizzare una nuova campagna propagandistica questa volta contro il bolshevismo ecco in un cinegiornale le crudeltà realmente accertate in una prigione politica in russi ma i sovietici fanno troppa paura e allora una velina aperte un giornale ha pubblicato dei particolari sul modo con cui i bolshevichi se viziano i prigionieri tali descrizioni sono del tutto controproducenti avendo anche noi dei combattenti su quel fronte evitare nel modo più assoluto ogni notizia del genere intanto sul fronte russo muoiono circa 60.000 italiani e siamo al dicembre del 1941 Elia Roosevelt il presidente degli Stati Uniti d'America eccolo i recarsi a visitare una fattoria un vitello gli viene democraticamente presentato l'attacco giapponesa per l'Arbor porta Italia e Germania in guerra contro gli Stati Uniti Pavolini dà allora il via al dileggio verso il presidente Roosevelt ma a nulla serviranno motteggi e sverleffi lo schieramento della superpotenza americana si rivelerà determinante per la sconfitta del nazifascismo Mussolini lo sa la guerra per l'Italia sta andando male malissimo ma gli italiani non lo devono sapere per la propaganda è meglio diffondere immagini di un luce rassicurante che può perfino dilettarsi nel tennis uno sport che gli risulta particolarmente ostico ma che si ostina a giocare giorno dopo giorno le veline governative ancora indirizzano impongono censurano ispirare il giornale compresa la cronaca all'atmosfera di guerra alla ferma decisione di resistere e alla volontà di vincere gli articoli allarmati e deprimenti apparsi su qualche giornale sono deplorati i commenti devono essere ispirati a tonalità di maschia energia anche per quanto riguarda le notizie sulle vittime di guerra si danno precise direttive nel commentare i caduti evitare le consuete espressioni di cordoglio essi si onorano con fierezza e non si rimpiangono e ancora si ricorda che è tassativamente vietato pubblicare annunzi mortuari a pagamento relativi ai caduti di guerra ci si vergogna di dire che migliaia di nostri operai che lavorano nelle fabbriche di Hitler stanno morendo sotto le bombe anglo-americane e allora la propaganda raccomanda non parlare dei funerali avvenuti oggi in Germania degli operai italiani vittime di un bombardamento aereo in un nostro aeroporto del fronte orientale prigionieri russi addetti ai lavori dell'aeroporto guardando il cine giornale sembra davvero che le cose vadano per il meglio e che l'Italia se la cavi alla grande e se a fronte dei morti e delle privazioni il consenso è fortemente in calo la propaganda intensifica la sua offensiva proponendo ancora come un discorotto esempi della cosiddetta superiorità italiana ecco le immagini di addestramento della modernissima divisione di paracadutisti folcore la scelta e l'addestramento del paracadutista sono compiuti in una scuola unica nel suo genere il trasporto dei mass motoscafi antisommergibili attraverso le Alpi per raggiungere la Russia a Polzano primo ostacolo è necessario demolire gli spigoli di due case per consentire il passaggio ai nostri mass i nuovi carri della Riete con corazza rinforzata più che ausiliario della fanteria è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra quindi un'altra arma questa sì rivoluzionaria staccata alla parte popchiera si vedono i bruciatori con i quali si aumenta la forza propulsiva e quindi la velocità dell'aeroplano del Caproni Campini forse il primo aereo a reazione a levarsi in cielo nella storia del volo però ne viene costruito solo un prototipo certezza nella vittoria e dovere della normalità queste le parole d'ordine per chi è rimasto a casa che tutto continui come prima piazza San Marco è costellata di cartelloni cinematografici non si rinuncia neppure alla mostra del cinema di Venezia particolarmente amata anche dal ministro della propaganda del Reich Josef Goebbels i due ministri si recano allo spettacolo inaugurale della decima mostra dedicato alle forze armate italiane e germaniche e come sempre ci sarà l'attesa lotteria di Tripoli Tripoli vive la sua grande giornata sportiva sul circuito della Mellaha sta per svolgersi la corsa dei milioni attraverso un duello serrato viene censurato però lo slogan che la pubblicizza in questi termini il 1942 sarà certamente l'anno della vittoria come si deve tener duro per la guerra così bisogna tener duro per vincere la lotteria ufficialmente perché considerato irriguardoso l'accostamento fra la guerra e la rifa popolare ma sicuramente perché nessuno al governo nel 1942 avrebbe scommesso su un'effettiva vittoria è una normalità che la propaganda esibisce ignorando l'inferno di polvere e sangue del fronte africano o di neve e morte del fronte russo un'altra probbida iniziativa è quella delle carrozze ristoro le pellicole del luce tramutano i viaggi dei disperati che rientrano dal fronte del don quasi incomodi viaggi per turisti fanno vedere solo i soldati ancora in buono stato si mostrano le carrozze ristorante dell'opera nazionale dopo lavoro non le navi o i treni ospedali carichi dei corpi macellati dei feriti i nostri combattenti in Russia hanno celebrato il Natale con i doni della patria lontana nello spazio ma presente col cuore vengono organizzate spedizioni di pacchi dono natalizi per i soldati al fronte la gigantesca macchina della propaganda arriva a mobilitare l'intero mondo dello spettacolo trascinando sui palcoscenici delle retrovie del fronte un'infinità di artisti famosi all'epoca Tito Schipa e Beniamino Gigli e poi Aldo Fabrizi Anna Magnani Totò i fratelli de Rege nessuno si sottrae neppure Edoardo De Filippo Aizio Pasquale quei numeri sono la data della tua morte come può essere in un grande auditorio del Neyar è intervenuta la principessa di Piemonte che ha voluto essere in mezzo ai soldati nell'ora dedicata ai nostri combattenti Anche la radio fa la sua parte non si esita a strumentalizzare perfino il dolore di una madre fatta interpretare al microfono da Maria Luisa Boncompagni la storica prima annunciatrice del Leyar come mamma ma è comunque una madre che spera che il figlio tornerà da lei ma tornerai dalla tua mamma e mi racconterai della tua vita e la tua mamma ti preparerà a quei dolci che non hai potuto mangiare oggi perché sei lontano ecco ancora infinite trasmissioni di intrattenimento per far dimenticare morti e feriti tragedie e bombardamenti la radio manda canzonette la propaganda utilizza i sentimenti quasi a voler addolcire le sofferenze della guerra anche l'amore il matrimonio vengono spettacolarizzati la toletta nuziale dello sposo combattente in Africa un altro sposo è marinaio ogni sposa è accompagnata da un ufficiale superiore procuratore dello sposo la radio serve anche per celebrare matrimoni per procura in diretta fra soldati sui campi di battaglia e fidanzate in patria che diventano loro mogli con un semplice sì al microfono alcune non rivedranno mai più il marito di lui rimarrà solo la voce alla radio i sì si incrociano attraverso lettere mentre con il procedere della guerra il conto delle vittime aumenta a dismisura per non deprimere con le cattive notizie la propaganda vieta di rendere noti i nomi dei morti e dei prigionieri se ne dà soltanto il numero complessivo una scelta che crea panico tra le famiglie le richieste di informazioni trasformate in schede per evitare ogni possibile errore le schede invece di essere copiate sono prima fotografate e poi scritte a macchina prima corrispondenza cinematografica della battaglia che infuria nella stretta di El Alamey chiusa fra la depressione di El Cattara e la costa il cine giornale mostra tutta la tensione prima della battaglia non certo la sconfitta che ne segue gli anglosassani attaccano in massa le radio campali lavorano senza tregua serrato ed inumacabile duello d'artiglierie fra le opposte masse di carri sui cine giornali si esaltano i comportamenti valorosi dei soldati italiani 11 novembre 1942 è l'inizio della ritirata da El Alamey seguirà la perdita dell'Africa settentrionale e poi dell'ultima sponda d'Africa rimasta in mano a Mussolini la Tunisia ma ormai sono in pochi a credere negli artifici della propaganda molti sanno che le corrispondenze di guerra dei giornali non dicono la verità Leijar ha perso ascoltatori a favore della proibita Radio Londra anche perché non esita a comunicare agli inglesi le sconfitte quando ci sono da qualche tempo si fa strada nell'etere Radio Mosca anch'essa è illegalmente captata dalla quale parla un certo Ercoli pseudonimo di Palmiro Togliatti comincia a diffondersi la fame vietato parlare dell'aumento dei furti nelle case gli ordini perentori delle veline però non sedano l'appetito fiorisce la borsa nera e non si trovano più neppure i surrogati la macchina del consenso è ormai in crisi inceppata il mito del Dux dell'uomo che ha voluto le leggi fascistissime l'alleanza con Hitler le leggi razziali è ormai definitivamente al tramonto testimonianze delle proditorie imprese dei gangster dell'aria l'accanimento contro la casa dell'infanzia è dovuto al fatto che gli apparecchi omicidi sono pilotati da specialisti in ratti infantili odio e orrore con l'inizio dei bombardamenti alleati sulle città italiane le fortezze volanti alleate dal cielo stanno riducendo in macerie le case i monumenti e le chiese la contraerea non può fare più nulla non c'è rimasta che la disperazione ma la propaganda ancora cerca di rassicurare è tutto inutile queste sono forse le ultime immagini di Mussolini ancora capo del governo indivisa da capo del fascismo sorride ancora ancora per poco la notte del 10 luglio 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia nove giorni dopo Roma è bombardata per la prima volta il 25 luglio il 25 luglio 1943 dopo il voto contrario del Gran Consiglio Mussolini è fatto arrestare dal re sollevato dal potere sostituito dal maresciallo Pietro Badoglio come reagisce a questo storico evento l'immensa ventennale macchina della propaganda mussoliniana e come reagisce la folla quella massa oceanica chiamata infinite volte a raccolta in tutte le piazze d'Italia che di notte in silenzio è passata per piazza Venezia per osservare la finestra del duce con la luce accesa come può quest'uomo il mito di cui le italiane erano invaghite e gli italiani ammirati essere messo da parte tanto facilmente la grande storia può svelare il mistero facendovi ascoltare per la prima volta le parole con cui viene commentata la notizia della sua caduta è un cinegiornale dal sonoro inedito ritrovato presso l'istituto nazionale audiovisivi di Parigi l'alba del 26 luglio trova tutta l'Italia imbandierata la caduta di Mussolini viene accolta con sollievo con una sagra di bandiere sabaude inneggianti il re sono soprattutto i giovani che presto sarebbero dovuti andare a combattere a festeggiare sono loro ad arrampicarsi sui camion e sugli autobus a riprendere il libero possesso della città trionfa il tricolore del risorgimento e dell'unità della patria ora si festeggia la caduta del mito illudendosi che la guerra sia finita con la sua capitolazione spontanee manifestazioni patriottiche si svolgono per le vie di Roma inneggiando al sovrano e al maresciallo Badoglio il declino dell'immagine del duce è tale che in 24 ore tutti si adeguano al cambio di timone e festeggiano Badoglio il successore insieme al re un solo grido un solo pensiero una sola fede l'Italia di tutti gli italiani perfino l'istituto luce uno dei bracci più operativi della propaganda si adegua e Guido Notari lo stesso speaker che fino a dieci giorni prima aveva esaltato le esibizioni del mito ora con disinvoltura ne celebra il De Profundis tutto il popolo si stringe intorno al re soldato e al maresciallo Badoglio per servire l'Italia con dedizione assoluta stessa voce per parole così diverse tutto come se niente fosse grazie a tutti